Vi ho parlato spesso di come sia possibile utilizzare la modalità HDR per andare ad aggirare i limiti tecnici del sensore della nostra fotocamera e fondamentalmente ottenere un'immagine più ricca di informazioni, un'immagine che il nostro sensore nativamente non sarebbe in grado di catturare. Ebbene, oggi vado a farvi vedere come è possibile ottenere più o meno la stessa cosa, ma facendo fare tutto alla nostra fotocamera in automatico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, sono un fotografo di diversi anni e oggi vado a raccontarvi com'è possibile ottenere una fotografia HDR facendo un po' meno fatica. Prima di cominciare però vi ricordo che qualsiasi tipo di dispositivo fotografico stiate utilizzando funzionerà molto meglio se vi iscrivete subito al mio canale. Il bottone è subito qui sotto e se attivate anche le notifiche non rischiate di perdervi le risposte video verticali che spesso e volentieri produco in risposta ai commenti che mi lasciate. Quindi se avete domande i commenti sono qui sotto. Partiamo dal principio. La nostra fotocamera ha un range che è in grado di catturare. Per esempio nell'immagine che voi state guardando adesso vedete che riusciamo a vedere correttamente esposta sia la tinta del mio incarnato sia la tinta della mia maglietta che è molto più scura. Quindi questa fotocamera che io sto utilizzando per registrare il video è perfettamente in grado di catturare la gamma dinamica di questa scena. Che cosa succede però quando siamo in presenza di un forte controluce per esempio? Vi faccio un esempio limite. Magari stiamo scattando una fotografia dall'interno di casa nostra ma c'è anche la finestra e quindi avremo la stanza che sarà più buia del cielo fuori se stiamo scattando di giorno in una giornata di sole. Quindi per la nostra fotocamera nella maggior parte dei casi sarà impossibile esporre correttamente queste due situazioni perché la macchina deve decidere. Anzi noi dobbiamo decidere, dobbiamo dirlo alla macchina. O esponiamo correttamente il fuori o esponiamo correttamente il dentro. Per aggirare questo problema i produttori di fotocamere hanno pensato bene di darci la possibilità di dire alla macchina di scattare più foto. Così noi possiamo catturare correttamente sia all'interno sia all'esterno. Ora i produttori di fotocamere ovviamente ci danno la possibilità di essere flessibili in questo procedimento. Per cui noi possiamo scegliere quanti scatti far fare alla macchina. Possiamo scegliere se farne 2, 3, 5 o 7 perlomeno sui modelli che uso io. Magari ci sono altri modelli che hanno dei numeri differenti. Ora normalmente con 3 foto io me la cavo abbastanza bene in quasi tutti i contesti. Esistono dei casi di cui ho già parlato in un video che vi lascio linkato in card in cui ho riputato che fosse meglio scattare 5 foto perché avevamo una situazione di contrasto veramente estremo. Quindi se non riusciamo a catturare correttamente tutta la gamma con 3 scatti possiamo farne 5, possiamo farne 7 a seconda del caso. Ora però se noi facciamo tutto questo procedimento di cui ho già parlato, quindi se volete sapere come si fa andate a spulciare sul mio canale e recuperatevi video dedicati. Se noi facciamo tutto questo procedimento cosa succede? Che ci mettiamo un sacco di tempo. Perché le immagini sono tante, perché le immagini pesano, perché bisogna processarle, mescolarle, fare lo sviluppo digitale, esportarle. Insomma ci vuole un sacco di tempo. Magari noi potremmo avere fretta, potremmo volere una fotografia HDR, però proprio come facciamo con il nostro smartphone non abbiamo voglia di post-produrla. Vogliamo che ci pensi la macchina a farci già l'immagine miscelata correttamente e a darci già un risultato spendibile subito, senza bisogno di lavorarla noi. Allora oggi vi farò vedere innanzitutto come si imposta questa funzione sulla nostra fotocamera. Dopodiché andremo a vedere a computer come escono queste immagini e andremo a vedere la differenza tra una fotografia scattata con metodo tradizionale, quindi con il bracketing a 3 stop, non andiamo a scomodare il bracketing a 5 a 7 stop, andiamo a scattare una fotografia con il bracketing a 3 stop e la paragoniamo a delle immagini scattate con la funzione HDR automatico della fotocamera. In questo caso la fotocamera che andiamo a utilizzare è Canon EOS R. Esistono sicuramente delle macchine più nuove che hanno una modalità HDR migliorata, però tutto sommato siamo lì perché comunque essendo una funzione non particolarmente professionale, quindi una funzione che normalmente un professionista non usa, perché il professionista fa il bracketing correttamente, essendo una funzione diciamo un po' amatoriale, non l'hanno implementata più di tanto perché tanto va a servire una fascia di utenti che difficilmente sono minuziosi a notare le differenze. Bene, ma andiamo innanzitutto a vedere come si imposta la fotocamera, dopodiché ci rivediamo nel mio computer per vedere come si comportano le varie immagini. Benissimo, ma andiamo a vedere come funziona questa modalità HDR. Innanzitutto, come sempre, accendiamo la macchina. Andiamo nel nostro menu e dobbiamo andare sul primo menu alla tab numero 5 e qui vedete che abbiamo HDR mode. Ovviamente adesso non è abilitato. Nel momento in cui noi entriamo abbiamo tutta una serie di opzioni, per esempio possiamo usare automatico oppure più 1, più 2, più 3. Nel corso del video vi farò vedere tutte e tre queste opzioni come rendono, infatti ogni volta che noi andiamo a cambiare opzioni avremo un risultato diverso. Ovviamente più 1 avrà un HDR di lieve entità, più 2 sarà superiore, più 3 sarà il massimo che possiamo ottenere dal nostro dispositivo, quindi andremo a vederle tutte e tre. Qui abbiamo la possibilità di utilizzare diversi effetti. Io vi farò vedere solamente naturale, perché quello che mi interessa in questa fase è solamente farvi vedere come funziona. Nel momento in cui andiamo a utilizzare Art, Vivid, Bold o Embossed otterremo degli effetti diversi che io andrei a definire un po' fantasy o un po' esagerati, ma che francamente non userei mai, quindi non ve li faccio neanche vedere. Quindi sperimentateli voi se vi interessano. Continuous HDR, questa è una modalità interessante perché noi possiamo dirgli che dopo il primo scatto la macchina deve tornare a lavorare normalmente. Quindi possiamo dirgli che questa modalità HDR deve funzionare solamente una volta e poi tornare come era prima. Invece possiamo anche dirgli di rimanere così, quindi every shot e quindi la macchina rimarrà impostata così fin tanto che noi non l'andiamo a disattivare. Allineamento automatico delle immagini, questo ovviamente è importante perché se non vogliamo fare post-produzione, gli diciamo di attivarlo in maniera tale che la macchina fotografica processi da sola le immagini e ci restituisca già il risultato finito. Abbiamo infine la possibilità di decidere che cosa vogliamo salvare. Quindi noi possiamo salvare tutte le foto, per cui possiamo salvare le tre foto che andiamo a realizzare, oppure possiamo salvare solamente la foto HDR finita. In questo caso io salverò solamente la foto HDR finita perché poi andremo separatamente a realizzare tre scatti in bracketing per andare a vedere la differenza. Molto bene, eccoci qui all'interno del mio computer. Come potete vedere qui abbiamo importato le tre fotografie scattate con il bracketing tradizionale. Quindi qui come potete vedere abbiamo lo scatto scuro, abbiamo lo scatto chiaro. Potete vedere l'istogramma che segue esattamente, quindi l'istogramma è spostato verso sinistra nella foto più scura. Come potete vedere è tutto spostato verso destra. Nella foto più chiara, che fondamentalmente è quello che vogliamo, perché vogliamo i dettagli anche nelle aree più scure, mentre nella prima fotografia abbiamo un pochettino di dettagli sparsi sui mezzi toni. Ora, noi andiamo a miscelare queste tre immagini, quindi facciamo merge to HDR. Ci viene restituita questa finestra di dialogo dove andiamo a dirgli allinea automaticamente, perché questa l'ho scattata a mano libera. Queste sono le impalcature, mi stanno facendo i lavori fuori dall'ufficio. E quindi ho scattato una scena che mi sembrava comoda, perché era a portata di mano ed era fortemente contrastata. Quindi si presta benissimo ai nostri scopi. Andiamo a miscelarle. E qui lui ci restituisce la maschera attraverso il quale decidiamo di andare a salvarla in una location specifica. Io la salvo nel primo posto che mi capita, perché tanto è solamente per farvi la dimostrazione. Ok, lui ci mette un po' perché queste immagini sono pesanti. Capite che cosa voglio dire quando dico che ci si mette tanto a fare questo procedimento? Ok, adesso abbiamo la nostra foto HDR che non è ancora stata processata dal computer. Io adesso vado a selezionare un profilo colore che mi piaccia. Vedete che l'istogramma cambia lievemente. Vado a fare le mie solite migliorie. Quindi vado a aggiustarla a mio gusto. Queste sono tutte le personalizzazioni che faccio normalmente su un'immagine di questo tipo che ovviamente non posso fare nel momento in cui vado a lavorare in automatico. Adesso andiamo anche a raddrizzarla. Vediamo se si riesce a raddrizzarla in automatico. Io non sono mai contento di come le raddrizza in automatico. Vediamo se oggi ce la fa questa. Ecco, infatti non mi soddisfa. Allora lo facciamo a mano. Questa è la tipica cosa che io cerco di fare quando scatto le fotografie con la macchina fotografica. E quando faccio la mia postproduzione vado a essere puntiglioso e sistemo tutte le virgole, tutti i puntini, eccetera, eccetera. Ovviamente nel momento in cui vado a lavorare in automatico perdo la possibilità di essere incisivo perché otteniamo un JPEG già processato e non un file RAW. Quindi non posso più maltrattarlo, non posso più fare tutte queste cose che sto facendo. O meglio, le posso fare, però l'immagine ne va a perdere moltissimo. Abbiamo una caduta qualitativa molto più evidente. E quindi possiamo maltrattarla molto di meno perché si andrà a rovinare molto più facilmente. Quindi il mio consiglio è raddrizziamo anche queste perché non ce la faccio a guardarla così è troppo storta. Come vi dicevo, queste sono tutte cose che io faccio nel momento in cui sto lavorando su dei RAW o in questo caso un DNG che comunque è un negativo digitale. Difficilmente si va a fare un procedimento di questo tipo su un JPEG. Non perché non si possa fare, perché si può fare esattamente la stessa cosa, ma il JPEG lo regge molto peggio. Quindi andremo a vedere dei difetti, degli artefatti che verranno fuori e che saranno molto più evidenti sul JPEG piuttosto che sul file RAW. Non per niente il RAW è fatto apposta per andare a modificarle dopo, per maltrattarle. Ok, vediamo un prima e un dopo. Vedete che qui abbiamo un histogramma perfetto e abbiamo un'immagine che conserva tutti i dettagli in tutte le aree. Infatti vedete, se io vado ad aprire i miei alert, vedete che devo andare a sovraesporla l'immagine. Guardate di quanto la devo sovraesporre per cominciare ad avere perdita di dettaglio. Se io la tengo come l'avevamo fatta, quindi adesso torno indietro, abbiamo un'immagine che mantiene perfettamente tutti i dettagli, l'intera gamma attraverso tutto il fotogramma. Non abbiamo perdita di dettaglio da nessuna parte. Ora, andiamo ad aprire i nostri file, andiamo ad aprire sia i JPEG derivanti dall'HDR automatico e andiamo a vedere come si comportano. Qui come potete vedere abbiamo un histogramma che riempie per intero, quindi abbiamo una buona gamma, però abbiamo i bianchi che clipano un pochino. Andiamo nella seconda immagine, qui come potete vedere sto aprendo un livello curve perché così vediamo un histogramma più grande. Qui lo vediamo molto meglio e vedete che è distribuito come quello di prima, però abbiamo i dettagli che sono tirati un pochino più in dentro, quindi abbiamo meno perdita di dettaglio. Andiamo sulla terza immagine, qui ho già aperto il livello di regolazione curve, vedete che abbiamo di nuovo un histogramma molto simile. Adesso andiamo a rivederli tutti quanti in sequenza. Vedete come l'istogramma cambia e vedete come sostanzialmente nella prima foto che è EV1 abbiamo più perdita di dettagli e nell'ultima foto ne abbiamo di meno. Andiamo a vedere la nostra foto HDR fatta bene però e guardate la differenza di histogramma. Guardate com'è più ciccione l'istogramma della fotografia fatta con l'HDR fatto in maniera tradizionale. Ha molte ma molte più informazioni, ha una gamma incredibilmente migliore, è molto più ricca, quindi al di là del fatto che sia oggettivamente migliore, ha proprio una gamma molto migliore, è una cosa riscontrabile immediatamente sia dall'istogramma sia occhio nudo. Ora andiamo a vedere queste immagini affiancate, quindi una modalità di visualizzazione di Photoshop che non uso mai, la uso adesso per fare la dimostrazione. Vedete che nella prima immagine EV1 e nella seconda EV2 e nella terza EV3 abbiamo un buon mantenimento dei dettagli sia nelle alte luci che nelle ombre ma non è paragonabile alla fotografia scattata con metodo HDR tradizionale. Andiamo a vederle con un altro orientamento. Vedete che non ci sono dubbi. In EV1 abbiamo un po' di perdita di dettagli, mentre nella fotografia scattata con HDR tradizionale è perfetta, è una cosa incredibile. Anche EV2 e EV3 non riescono a mantenere completamente tutti i dettagli e comunque la nitidezza, la precisione e il dettaglio sono letteralmente un'altra cosa. Quindi io vi faccio vedere che questa modalità esiste. Andiamo a vedere un'altra visualizzazione ancora. Vedete che non ci sono dubbi su quale sia la migliore delle tre. Questa modalità esiste, io ve la faccio vedere, decidete voi se usarla oppure no. Beh amici, che dire. Come avete potuto vedere, l'ambaradan funziona, la macchina si comporta bene, le fotografie che vengono scattate in questa modalità sono addirittura più veloci rispetto al bracketing tradizionale. Quindi la macchina sa che ha a che fare con un contesto non professionale e scatta le immagini più velocemente per non dare adito a micromossi, per non farci fare errori in sostanza. Quindi è una modalità pressoché guidata, molto semplice secondo me da portare a casa e abbiamo tutta una serie di opzioni che possiamo utilizzare per arrivare direttamente al risultato finale veramente con un click. Quindi è una cosa molto molto facile. Io non vi dico di non usarla, vi dico che come avete potuto vedere non è la cosa migliore che potete fare, non è il risultato migliore che potete portare a casa. Possono esistere dei casi in cui uno non ha tanta voglia, magari è con gli amici, con la famiglia, con la fidanzata. Allora non avete voglia di stare lì a fare l'HDR come si deve. Allora la sparate, c'è un bel tramonto, la sparate con l'HDR inserito e come viene, viene. Io ve lo faccio vedere perché è sempre bene saperlo. Può essere che prima o poi nella vita vi torni utile. Personalmente vi consiglio di fare le cose in maniera tradizionale perché avete visto che differenza c'è. Nel momento in cui facciamo le cose in maniera tradizionale abbiamo la possibilità di portarci a casa una tonnellata di informazioni in più quindi il risultato finale che andiamo a ottenere secondo me è molto superiore e soprattutto è anche un po' più personale perché l'abbiamo fatto noi quindi abbiamo deciso noi come veniva fuori. Invece se lo facciamo fare alla macchina sì esistono delle opzioni che ci permettono di personalizzare un pochino però sono un po' a senso unico, non esistono vie di mezzo. Quindi questo è il mio parere. Fatemi sapere in un commento se l'avete trovato utile, se lo utilizzate, se lo utilizzerete. Soprattutto fatemi sapere se scattate con una macchina fotografica vera o se preferite utilizzare lo smartphone. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale così non vi perdete eventualmente le mie risposte e i vostri commenti che rispondo solitamente con dei video brevi. Se vi iscrivete non rischiate di perderveli. È stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!